Spacco tutto, spacco tutto, basta, Titus, già dal nome, ho giubili in mano, attenzione, più 5 di energia ho durante questo turno, ok, questo campo avverrà, ok, allora, boom direi di giocare il tutto per tutto, tac, jubilee e antemann, mi evoca un mostro, è un mostro, un eroe, sunsport, ottimo, ok, 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 Merda, ma come durante il terzo turno mescola la mano nel mazzo, però posso pescare 3 carte, livello 2 Morbius, direi di fare così, tac, sunsport va a 4, antemann va a 4, 12, boom, ma che culo, ma che culo, allora io devo fare guadagnare energia a questo sunsport, quindi, quindi direi di fare così, ok, ok, allora, faccio guadagnare 5 sunsport e va a 21, puoi dire di giocare sul campo di sinistra che è vuoto, infinite, ottimo, io adesso passo, che questa carta la posso evocare solamente quando non evoco degli eroi, ottimo, 21, lui ha spostato Nightcrawler sull'altro, quindi ha messo ancor peggio, io direi di fare così, e snap, 12, boom, vinta, ottima strategia, è la fine, è la fine, è la fine, buono, io però direi di giocare sunsport, ora spero che abbia preso una carta del cazzo, minchia, questo è livello 1, però non posso giocare Electra qui, cazzo, eh no, dai dai, faccio così, buono, buono, ok, allora, ma io direi per forza di fare così, ma come, buono, ti prego, mettimi qualcosa di buono, purtroppo le carte da 6 ce le ho qua, ma scherzi, ecco, proprio la carta più, e va bene, questo è il turno 5, sunsport guadagna 5, va a 15, il campo di sinistra, vai, gioco, sento tutto, tutto, eh, mi sa che vince lui, mi sa che vince lui, mi sa che vince lui un corno, perché io faccio così, eccole, eccole, guardale, madonna mia, madonna mia, porca p***a, ma come l'ho distrutto, come l'ho distrutto, ecco l'ho testo, non gioco niente, eccolo, eccolo, no, 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 c'è che sfiga, però sto campo, è inutile, dai, c'è ma che cazzo di carte, mi capiteranno adesso, meno male che ho giubili, guarda, oh, iron heart, buono, più due forze, però ora no, non è il momento di giocarlo, non è il momento di giocarlo, faccio così, gioco quella lì, poi gioco nel centro, gioco iron heart nel centro, oppala, buono, 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 scarta della tua mano, la carta del costo maggiore, aspetta, gioco lui, non mi conviene, mi gioco, sì, mi gioco lui qua, giubili, buono, buono, non male, questo è il turno 5, mi sa che ho fatto una giocata di merda, ho un'idea, ho un'idea, gioco quello lì, così handman va, a 4, e quello lì, mi evoca, un eroe, buonissimo, 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 in tuo possesso, no, non mi rimane che fare questo, tac, Hulk lì, e la vinco così, ti prego, ti prego, armor, beh, sun spot 1, ottimo, 2, e vinco così, easy, ok, direi di giocarla, qua, vai armor, armor, fai capire chi sei, armor, si, vabbè, dai, ne evoca 2, questo qua l'ha pagato 0, che merda, che merda, direi di giocarla lì, questo, forse ho sbagliato, ok, quindi, Minchia Dopo il terzo turno Vieni distrutto Un campo casuale Porca puttana Questa è pesa Potrei giocarmi una carta E rischiare di perderla Non gioco niente Ti prego distruggi il campo di Di sinistra No ma come Distruggi Dopo il campo Ah ma vaffan Dopo il terzo turno Vieni distrutto Un campo Casuale Ma vabbè ma che cazzo Pensavo che venisse distrutto Il campo Ma zio bello Tutte le carte Ma F*** Grazie a tutti che schifo che schifo di carta che mi ha buccato niente per forza devo fare così ok mi sa che la vinco mi sa che la vinco la posso vincere di 1 se gioco questo qua a 1 no non avrebbe senso non avrebbe senso non avrebbe senso attenzione mi sa che la vinta mi sa che la vinta si distrutto let's go let's go buonissimo buonissimo non riesco neanche a giocare una carta si vabbè ma scherziamo cioè vabbè cosa significa questo inizio a mettere questo sunspot così guadagna 1 va bene va bene va bene gioca pure tutte le carte che vuoi le carte che costano 1 non possono essere giocate qui brutta questa gioco questo e guadagna 1 sunspot quindi vado a 8 oppala ah minchia non so mi sa che punto diretto a sto campo ma non c'è carte ma che cazzo l'avvocato a fare praticamente inutile questa carta ottimo spero che gioca una carta a effetto continuo così io lo annullo aspetta però se non gioco niente questo guadagna 5 no troppo rischioso questo guadagna 1 più 5 vado a 14 penso sì 14 no ma come ma come porca puta ah vince lui vince lui aspetta aspetta se lui non gioca niente sul campo di destra penso di aver vinto io ti prego ti prego non giocare niente nel campo di destra è molto probabile che giochi una carta lì ecco 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 sì che culo wind fade my hand qué culo qué culo qué culo qué culo más que partita ok 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 molto interessante sì buono dopo gioco antman gli faccio guadagnare 1 così va 4 ok ok boom quello va 4 ah quando gioco una carta qui ma quando la giochi e basta ma che cazzo sapevo così più due forze quando giochi una carta qua questo è 2 io direi di far salire sunspot direi di far salire sunspot 12 e vado a 13 Ho un'idea geniale Ho un'idea geniale Se lui evoca un eroe di Di livello 1 viene distrutto Io comunque dopo gli faccio guadagnare 5 Adesso guadagna 1 Ottimo E poi gioco infine Vedi vedi che lui gioca tutto sulla destra Ottimo E in più ci sono Ci sono gli attacchi Cioè la forza raddoppiata Quindi io adesso non gioco niente Non gioco niente Guardalo che continua a giocare Incredibile Bravo snappa bro Tieni prendi questo Snappa curioso Guarda ti faccio il culo Guarda come ti faccio il culo adesso Ti faccio il culo Ecco 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 Wow Wow Madonna 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 E beccati pure La forza raddoppiata E beccati Lo snappa sieta No se Subito Subito Entra senza neanche pensarci No se essere utile vedi sunspot lo metto subito qui questo scarto una carta questo va a 4 potenziare sunspot ma che cazzo si snappa sta troia beh potrei vincere potrei vincere snappa non mi interessa snappa anch'io oppala 23 wow tac dai non giocare un Hulk uno scogliattolino lì uno scogliattolino lì e io ci caccio l'infinout che glielo metti in culo ai suoi scogliattolini di merda vittoria si trasformerà sono proprio curioso di scoprirlo veramente oppala pesco una carta ottimo benissimo per forza minchia ah ma ha preso il mio sunspot sto bastardo di merda il mio sunspot no vabbè ho un'idea ho un'idea ho un'idea vedi vedi lui si vuole potenziare sunspot sto bastardo di merda mi ha preso sunspot aspetta minchia non ha carta effetto continuo è l'unica devo giocare nel centrale e vincere lì ma che cazzo si snappa sto coglione guarda 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 come lo batto non l'ha capito che ho cambiato strategia guarda infinaut me l'ha giocata da solo senza che io volessi adesso io mi gioco e io adesso mi gioco cioè se lui ha Hulk se lui ha Hulk se lui ha Hulk vince 12 12 16 troppo rischioso devo giocare qua per forza ora va ho la spazio non giocare Hulk non giocare Hulk buonissimo super snap super snap e la vince così e la vince così l'istruttore è